La città di Bari appartiene ai baresi e chi si candida a fare il sindaco deve fare di tutto perché siano i cittadini e le amministrazioni locali a scegliere il destino e l'utilizzo del proprio territorio. Questo non è accaduto nell'area demaniale di fronte al largo di Santa Chiara dove si sta costruendo un edificio che dovrebbe ospitare gli uffici del genio civile. Costruire nuovi palazzi intervenendo in un'area così importante per la città di Bari dal punto di vista paesaggistico, senza tra l'altro consultare né dialogare con l'ente locale o la popolazione residente, è inconcepibile. Questo è ancora più vero ora che Bari può e deve investire invece sulla riqualificazione del suo patrimonio pubblico e metterlo a disposizione dei cittadini. Per questo il candidato sindaco del centro-sinistra ha depositato una interrogazione al ministro alle infrastrutture Lupi responsabile del procedimento, chiedendo la sospensione immediata della costruzione della palazzina. Quell'area sostiene De Caro a tutte le caratteristiche per offrirsi alla città e diventare un parco oltre che ad essere uno degli affacci sul mare più belli e caratteristici che abbiamo. In cambio, qualsiasi sarà il ruolo istituzionale futuro, De Caro si impegna a dialogare costantemente con il ministero e le altre istituzioni competenti per mettere a disposizione del genio civile uno degli immobili di proprietà del comune attualmente inutilizzati. Proprio in questi giorni è stato presentato un protocollo d'intesa siglato tra il comune di Bari e l'associazione Popab per la realizzazione di una rete civica dei beni del patrimonio comunale da recuperare per finalità sociali e per la sperimentazione di un incubatore sul riuso. Secondo il candidato sindaco del centro-sinistra è necessario avviare una nuova stagione a Bari che recuperi il patrimonio esistente, urbanistico e paesaggistico a cominciare dal rapporto con il mare per troppo tempo ostruito dall'abuso di cemento.